Ciao a tutti amici di Tecnologia Su Misura e benvenuti in questo nuovo filmato e parto con la premessa che purtroppo sono stato veramente poco costante in quest'ultimo periodo e me ne dispiace ma purtroppo tra impegni vari e studio ho davvero poco tempo per pubblicare dei video nuovi comunque per farmi perdonare ho cercato di realizzare un piccolo programmino che ho sviluppato in totale autonomia e spero che questo programmino potrà esservi utile in poche parole questo programma si occupa di gestire i file del nostro computer indipendentemente che abbiamo Mac, Windows o Linux sostanzialmente tramite interfaccia grafica ci sarà possibile svolgere delle operazioni automatiche per raggruppare e gestire i file nonché ridenominarli in gruppo oppure diciamo farli convergere automaticamente in determinate cartelle in modo del tutto automatico ripeto comunque prima di partire a farvi vedere questo programma ci tenevo a mostrarvi un canale che è davvero molto interessante e penso che qualunque persona appassionata di informatica meriti di farci una visita questo canale è quello di Francesco Milanese che anche lui penso che sia una persona laureata in informatica comunque e si occupa di proporre delle playlist e dei tutorial davvero molto interessanti qui in primo piano abbiamo ad esempio Blender 3D un video tutorial su questo tipo di applicazione e in sostanza Francesco Milanese si occupa sostanzialmente di tutti i vari tipi di rendering 3D nonché editing anche fotografico oppure fa vedere come sviluppare videogiochi in 2D ad esempio o come agire su alcuni tipi di motori grafici come questo che è Unity 3D io nello specifico ci tenevo a farvi conoscere questo canale proprio perché ha pubblicato un video corso di Python e anche una playlist dedicata a TKinter che è una libreria di Python che permette di appunto creare interfacce grafiche che siano compatibili con tutti i principali sistemi operativi appunto Mac, Linux e Windows e naturalmente ci tenevo ancora maggior ragione a farvi conoscere questo canale proprio perché visto che io non ho avuto la possibilità di terminare la mia playlist relativa ai fondamenti della programmazione lui ha proposto la stessa idea anche se con un linguaggio di programmazione diverso che è appunto Python mentre io avevo optato per il C che è il linguaggio che conosco meglio per il momento comunque vi consiglio di guardarvi questi piccoli video corsi anche perché il programma che tra pochi secondi vi presenterò l'ho scritto in Python e quindi guardando questi video corsi vi sarà possibile comprendere maggiormente appunto tutto quello che ho scritto comunque concludiamo diciamo questa introduzione che è stata fin troppo lunga e andiamo a vedere nello specifico il programma appunto a cui mi sono dedicato naturalmente vi volevo far notare che non è assolutamente necessario e non è neanche necessario che voi abbiate voglia di imparare naturalmente la programmazione in Python per usufruire di questo programma che io diciamo ho creato per voi proprio perché l'ho anche compilato in modo tale cioè compilato nel senso ho prodotto un eseguibile in modo tale che voi possiate avviarlo senza la ben che minima conoscenza della programmazione questo per quanto riguarda se avete un computer Windows naturalmente se invece avete un Mac o vi basate su un sistema operativo Linux non c'è assolutamente alcun problema perché appunto questi sistemi operativi hanno già Python installato di default almeno Mac sicuro Ubuntu sicuro e in genere tutte le distribuzioni Linux lo hanno già installato di default comunque se non potete usufruire dell'eseguibile non c'è assolutamente nessun problema perché vi basta andare su internet andare sul sito di Python nel caso naturalmente non l'avessi installato e scaricarete la versione da 2.7.7 una volta che avrete installato tutto da terminale scriverete IDOL oppure semplicemente cercherete l'icona io ad esempio qui ho l'icona comodamente e appunto vi comparirà la shell di Python una volta che sarà comparsa andrete in open quindi andrete nella cartella dove avrete scaricato i file che vi proporrò e selezionerete il file interfaccia.py vi segnalo naturalmente che è fondamentale che abbiate oltre a interfaccia.py anche il file estrazione.py all'interno della stessa directory comunque aprite il file vi si presenterà il codice sorgente dell'interfaccia naturalmente non è assolutamente necessario che voi capiate cosa c'è scritto quindi premete F5 e come vedete l'interfaccia grafica vi comparirà come se avesse cliccato sull'eseguibile quindi adesso siamo pronti finalmente per vedere un po' in cosa consiste questo programma che ho scritto per voi ma soprattutto anche per me in prima persona perché veramente consente di svolgere alcune operazioni in modo del tutto automatico che sono davvero molto comode almeno a mio parere diciamo che ho creato questa cartella di esempio ne ho anche di più incasinate sul mio computer comunque questa per esempio diciamo è appunto un esempio per far vedere come agisce il programma e diciamo in tempo reale quindi cominciamo a capire che la cosa fondamentale è copiare il pathname della cartella all'interno della quale si è e copiarla in pathname assoluto infatti il pathname deve essere assolutamente assoluto dalla redice del file system cioè in questo caso dal C che indica il drive in Windows comunque oppure dall'ardice che se siete su Mac fino alla cartella in cui vi interessa operare quindi in questo caso nuova cartella quindi C user Valerio Desktop nuova cartella ok quindi adesso poniamoci nella posizione del quale noi vorremmo ordinare questa cartella è separare ad esempio i file .mp3 dai pdf ai file .txt potrebbero esserci anche dei file video dei torrent dei codici degli archivi .rar potrebbe esserci di tutto ma il risultato non cambierebbe assolutamente nel senso che l'ordinamento automatico lavorerebbe nello stesso modo e lavorerebbe bene quindi possiamo abilitare l'ordinamento automatico se premiamo start e diamo la conferma come potete vedere i file sono stati separati e in musica avremo separato i file .mp3 mentre in documenti avremo separato i pdf e i file testuali proprio perché è così ho deciso di impostarlo poi andremo a vedere anche come modificare il codice in questo senso per appunto per modificare le preferenze naturalmente se ci fosse stato ad esempio un file .mkv in mp4 il programma avrebbe creato una cartella video all'interno del quale sarebbero stati inseriti i programmi e questo è sostanzialmente il modo in cui funziona l'ordinamento automatico possiamo impostare tuttavia anche un ordinamento manuale infatti facciamo finta che ci interessi separare ancora i file testuali in questo caso pluto0.txt e pluto1.txt dal resto dei pdf per farlo semplicemente basterà flegare l'opzione apposita e poi verranno abilitati appunto questi campi quindi sostanzialmente dovremo creare un nome di una cartella all'interno della quale vogliamo mettere i nuovi file quindi file di testo in secondo luogo andremo a copiare il nuovo pathname di riferimento all'interno del quale ci interessa operare e poi ci chiede il programma di inserire una chiave di raggruppamento cosa significa chiave di raggruppamento significa che dobbiamo trovare una sequenza di lettere che possa accomunare tutti i file che ci interessa spostare nel nostro caso ad esempio potremo scrivere pluto come potrebbe essere anche una plut plù ad esempio ammesso che non compaia una sequenza di lettere plù anche nei file che non ci interessa spostare oppure possiamo lavorare direttamente sull'estensione e scrivere punto e scrivere txt se invece volessimo spostare tutti i file nella cartella file di testo ci lasceremo questo spazio vuoto e premeremo start comunque noi scriviamo pluto per comodità come vi ho detto ci sono 100 altre scelte che potrete applicare e quindi premiamo start diamo la conferma questa conferma appare tutte le volte proprio perché è importante essere certi della cartella all'interno della quale si vuole operare soprattutto per questa funzionalità che si chiama abilità estrazione files che poi vedremo successivamente perché se verrà abilitata in una directory ad esempio con i file di sistema potrebbe produrre anche dei danni quindi state ben attenti a dove eseguite quella funzionalità insomma comunque diamo la conferma operazione terminata e come vedete i file di testo sono stati inseriti nella cartella file di testo proprio come ci aspettavamo un'altra funzionalità che è interessante è quella di abilità ridenominazione files infatti abbiamo la possibilità di ridenominare dei files in gruppo e quindi in questo caso inseriremo ancora una chiave di raggruppamento come può essere ad esempio ancora Pluto li vogliamo ridenominare in Pippo ad esempio e poi andremo a inserire l'estensione del files che in questo caso dovrà essere sempre .txt perché l'operazione abbia senso e poi naturalmente dovete sempre ricordarvi di aggiornare il pathname assoluto altrimenti il programma non capirà all'interno di quale directory operare quindi premiamo start e come vedete i file sono stati ridenominati in Pippo 0 e Pippo 1 questo programma è anche interessante perché questo programma questa funzionalità è anche interessante perché ci permette di ridenominare anche solo le estensioni del file in certe occasioni può essere comodo appunto dover cambiare delle estensioni a un file quindi chiave di raggruppamento la chiamiamo Pippo il nuovo file si dovrà chiamare in modo del tutto invariato e in questo caso lo chiamiamo punto jpeg come se fosse un'immagine quindi facciamo start allora no in questo caso no sbagliato perché non devo mettere il punto in questo caso ok e come vedete l'estensione del files è cambiata e l'ultima funzionalità che questo programma che ho scritto consente è quella di diciamo di comprimere appiattire l'albero delle directory significa adesso cerco di creare un esempio tipico ecco qua o se no la musica la posso anche lasciare qui comunque la sostanza è che può capitare molte volte che di avere dei dei file annidati in in tante sottocartelle e ed è una situazione abbastanza noiosa quando ci interessa che questi file invece siano presenti uniformemente all'interno di una cartella perché andare a copiare tutto e continuare a fare copia in colla di tutti i file può essere un'operazione che può portare via davvero davvero molto tempo e soprattutto è molto noiosa e appunto per per ovviare questo problema lasciamo fare tutto automaticamente a questo programma per farlo abilitiamo l'opzione apposita andiamo se no è sufficiente cancellare fin qua e andiamo a dire al programma quanto profondamente appunto vogliamo estrarre i file contenuti nelle sottodirectorie a meno che non si vogliono fare operazioni chirurgiche questo è un parametro che si può tranquillamente aumentare fino all'eccesso il massimo di profondità possibile che ho impostato è 50 ma sostanzialmente 20 è già un numero abbastanza alto in questo caso comunque una volta che abbiamo impostato tutto ci basterà sempre far partire start e come potete vedere tutti i file sono stati estratti in modo di averli uniformemente in questo caso siamo tornati al punto di partenza ma voi dovete immaginare magari di scaricare file che sono completamente annidati e per estrarre tutto ad esempio nella cartella download può essere appunto molto noioso e l'ultima cosa da sottolineare è che l'abilita estrazione files e abilita ordinamento sono delle funzioni che possono operare in sinergia cioè operare assieme in questo caso prima viene effettuata l'estrazione files poi verrà eseguito l'ordinamento automatico dei files mentre se invece volete ad esempio abilitare l'ordinamento manuale questo dovrà essere un'operazione esclusiva così come l'abilita ridenominazione comunque in questo caso se faccio ripartire ad esempio l'ordinamento automatico do la conferma e a questo punto visto che ho cambiato l'estensione dei file .txt i file vengono considerati come immagini del programma e quindi inserirà nella cartella apposita insomma e diciamo che con queste quattro funzioni ho già ho finito subito la panoramica appunto delle funzioni che questo programma mette a disposizione ma tuttavia secondo me possono farci in certe situazioni possono farci risparmiare davvero tantissimo tempo queste funzioni poi mi direte anche voi nei commenti cosa ne pensate naturalmente e ultima cosa che ci rimane da vedere è proprio quella di andare a vedere il codice sorgente dell'applicazione adesso lo mettiamo splittiamo lo schermo così le vediamo tutte comunque il codice sorgente sostanzialmente è composto da soli due files il primo si chiama interfaccia e sostanzialmente si occupa di gestire tutta l'interfaccia grafica del programma e appunto di fare apparire diciamo gli elementi widget del programma e stabilire le funzioni e le variabili che essi modificano come ad esempio qui vediamo la riga che va a definire il bottone start che è quello che dice che il programma deve essere eseguito infatti vedete command start process rimanda in alto alla funzione start process e appunto va a dire in base ai parametri che sono stati impostati che tipo di funzioni il programma deve eseguire comunque qui ci sono anche un sacco di costrutti condizionali annidati e è impensabile in poco tempo andare a spiegare tutto quello che ho scritto era solo per darvi proprio un'infarinatura molto 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 superficiale quello che era più interessante invece andare a vedere è il file estrazione punto py perché diciamo che il cuore del programma è proprio qua dentro e va sostanzialmente a definire come le funzioni che sono state definite vanno a lavorare e a interagire con i files ad esempio riapro il programma quando abilitiamo estrazione files in realtà la funzione che andrà a operare sul file system è quella scusate mentre quando andiamo a definire ordinamento automatico la funzione che andrà ad agire è questa che è diciamo l'unica funzione sulla quale possiamo permetterci di operare veramente perché appunto è quella che si occupa di ordinare automaticamente i files infatti come potete vedere vengono create una serie di cartelle di default musica video documenti immagini programmi archivi naturalmente potremmo aggiungerne altre se dovessimo raggruppare altre diciamo estensioni di files che non sono coerenti con quelle che ho già definito per farlo vi basterà sostanzialmente fare copia e incolla stare attenti al fatto che perché python non ha punto e virgola non ha niente ma controlla diciamo l'allineamento del testo e in questo caso se adesso non saprei che altro tipo di videogiochi per dire in questo caso vi verrà creata anche di default una cartella videogiochi naturalmente tutte le cartelle che poi non sono state riempite con dei files vengono eliminate appunto per non avere cartelle inutili all'interno di una directory mentre un'altra parte che è più interessante è quella appunto che dice che fa capire al programma come andare a trasferire i files infatti come vi ho detto il programma guarda le estensioni dei files e in base a queste estensioni decide in che cartella metterle ad esempio in questo caso vedete che i cartelli i files .mkv mp4 flv vengono trasferiti nella cartella video ad esempio i file .mp3 o m4a invece vengono trasferiti in musica i file tipo documenti i pdf vengono trasferiti in documenti e così via però ad esempio potreste avere la necessità di raggruppare il un file .dvx ad esempio quindi chiamiamo una nuova estensione dovete semplicemente aggiungere una rega or poi chiamare la variabile ext dare il doppio uguale che è fondamentale e poi scrivere .dvx in questo caso poi quando naturalmente riavviare il programma questo funziona solo se lo fate direttamente dalla idle naturalmente non col codice binario già quello che vi ho fornito perché l'interprete non può capire che c'è stata una modifica all'interno del codice sorgente mentre se voi avviate da idle interfaccia .py riavviate l'interfaccia grafica allora in questo caso il trucchetto funziona comunque sostanzialmente una volta che aggiungete questa rega qui ogni qual volta poi il programma incontri un programma .dvx saprà che dovrà aggiungerlo nella cartella video comunque vi ripeto io vi metto in descrizione sia il canale di youtube che vi ho consigliato di francesco milanese sia il codice sorgente che appunto vi darà anche la possibilità di giocarci un minimo con quello che ho scritto e cercare di modificarlo potete anche darmi dei consigli perché di sicuro non è che sono il programmatore più bravo del mondo quindi i consigli sono sicuramente ben accetti e sostanzialmente direi che abbiamo finito speriamo che il programma vi possa ritornare utile che vi sia piaciuto questo video e spero che vi sarà piaciuto abbastanza da poterlo condividere con gli amici nel caso naturalmente avessero bisogno di funzionalità di questo tipo comunque spero che di riuscire a caricare video diciamo con più assiduità rispetto al solito e non mi rimane che salutarvi tutti un saluto da Valerio grazie a tutti